. GF Vip, nuova squalifica dopo le frasi o scene? Ecco chi rischia Wind Zuiden. Colpo di scena al Grande Fratello Vip 2017, è in arrivo una nuova squalifica immediata?. Al Cancelletto Grande Fratello Vip 2017 potrebbe essere in arrivo una nuova clamorosa squalifica nel corso della semifinale in programma lunedì 27 novembre. E' questo il dubbio che attualmente si stanno ponendo i tantissimi fan spettatori del fortunato reality show Mediaset, i quali attendono con trepidazione la messa in onda della penultima puntata del GF Vip, durante la quale avremo modo di conoscere in primissi i nomi dei finalisti ufficiali di questanno ma anche quelli dei concorrenti che saranno eliminati definitivamente dal programma ad un passo dalla finalissima. . Nuova bufera al Grande Fratello Vip e rischio squalifica in arrivo. Ecco allora che le anticipazioni di queste ore sul Cancelletto Grande Fratello Vip rivelano che durante la semifinale potrebbe esserci una nuova squalifica immediata. . Il concorrente finioto sottoaccusa nel corso delle ultime ore è Giulia De Lellis, contro la quale si è scagliata una vasta fetta di pubblico che segue la trasmissione in televisione su Canale 5, i quali non hanno gradito per niente le ultime frasi che sono state ritenute oscene pronunciate dalla fidanzata di Andrea Damante all'interno della casa. . . Nel dettaglio, infatti, Giulia De Lellis, parlando della scuola e dei bidelli che lavorano all'interno, ha dichiarato che la maggior parte di questi sono tutti handicappati. . Un'affermazione shock e molto forte che ovviamente non è passata inosservata e che ha indotto il pubblico che segue il reality show condotto da Hilary Blasi a prendere una dura presa di posizione nei confronti della De Lellis, visto che la ragazza non è la prima volta che usa termini così forti. e talvolta offensivi. . Giulia De Lellis sarà squalificata dal GF Vip. . Questa volta la bufera del mondo social è stata molto dura nei confronti di Giulia, e siccome stiamo arrivando verso le fasi finali di questo grande fratello Vip, ecco che è stato chiesto alla produzione di non mettere a tacere l'ennesima frase o scena di Giulia e di prendere dei provvedimenti in vista della semifinale del prossimo lunedì sera. . . Cosa succederà a questo punto? Per Giulia De Lellis potrebbe essere giunto il momento della squalifica ufficiale dal programma? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore, anche se le bimbe di Giulia sperano che la ragazza non venga squalificata dal programma proprio adesso che siamo giunti sul più bello. . . Per restare aggiornati su Un futuro di Giulia nella casa, vi invitiamo a cliccare sul tasto segui. .